METER di Dondinoto, tre progetti sostenuti da Ariston Challenge. Il polo formativo ed educativo dell'associazione METER on Lose, sito a Pachino in via Mouscini, fa parte tra i sette progetti sostenuti nell'ambito dell'Ariston Comfort Challenge 2, un'iniziativa nazionale nata con l'obiettivo di dar vita a diversi progetti di riqualificazione ed efficientemente energetico sul territorio italiano per il benessere della comunità. Nello specifico ad essere tenute in considerazione sono strutture, case famiglie, associazione culturale di volontariato, strutture sportive e altro che sostengono giorno per giorno le comunità locali offrendo aiuto per migliorare la vita delle persone, incrementando la qualità dei sistemi di riscaldamento degli ambienti. Tra le sette iniziative sostenute dall'Ariston Comfort Challenge 2 c'è anche la realtà di Pachino preseduta da Don Fortunato di Noto impegnata nella lotta contro la pedofilia, tutelando dei diritti dell'infanzia, promuovendo il sano sviluppo del bambino e intervenendo in tutta la situazione di rischio. L'iniziativa verrà illustrata domani alle 11.30 nei locali dell'associazione in via Maucini e verrà consegnata una targa di riconoscimento sia alla struttura sia all'installatore che ha gratuitamente contribuito all'installazione della caldaia per l'impegno profuso nella realizzazione del progetto.